Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo,issimo. Torna in terapia intensiva la mamma del bimbo nato con 11 centimetri e meno di 500 grammi. C'è chi ci lascia una grande lezione di vita, e Aron lo ha fatto. È nato con 16 settimane di anticipo, pesava solo 490 grammi ed era alto solo 11 centimetri. Questo piccoletto aveva davvero tutto contro di sé, ma non si è arreso finché non è sopravvissuto. Anna, di Green Bay, Wisconsin negli Stati Uniti, all'età di 29 anni era incinta del suo primo figlio, desiderosa di incontrarlo, tenerlo tra le braccia e amarlo incondizionatamente, stava passando il periodo più bello della sua vita. La felicità di tutta la famiglia traboccava di eccitazione all'arrivo del bambino. Ma tutto è cambiato quando, 16 settimane prima della sua scadenza, Un'eccessiva emorragia costretto Anna ad andare al pronto soccorso dell'ospedale. Qualcosa era chiaramente sbagliato. I medici l'hanno diagnosticata come lapidaria e Anna ha dovuto pertorire. Anna, che aveva il cuore spezzato per il fatto che il suo bambino avrebbe dovuto affrontare problemi difficili prima che potesse aprire gli occhi, Ma non aveva altra scelta che lasciare la sua salute e la vita di suo figlio nelle mani di Dio e del team medico. Dopo complicate ore di travaglio, Anna ha dato alla luce a Ron, che ha subito due emorragie cerebrali durante il parto e i medici hanno avvertito che poteva essere lasciato in stato vegetativo. Mi sento in colpa per averlo detto, ma la prima volta che l'ho visto, è stato molto difficile guardarlo. Ecco quanto era piccolo, ha detto Anna. La prognosi non era incoraggiante, il piccolo era così fragile che il solo fatto che fosse vivo fuori dal grembo materno era un miracolo. Quando è nato non avevo idea se fosse vivo o meno, è stato davvero traumatico. Le probabilità erano contro di lui, i medici gli davano solo il 20% di possibilità di sopravvivenza, ha aggiunto Anna. Ma quello che nessuno sapeva era che questo piccolo neonato era un combattente che non avrebbe smesso di lottare per la sua vita. A Ron ha trascorso poco più di tre mesi in un'unità di terapia intensiva neonatale prima di essere finalmente dimesso il 24 luglio 2018, tre giorni prima della data prevista per il parto. Sebbene sia stato mandato a casa con un ventilatore per aiutare i suoi polmoni, ha superato il peggio. È un miracolo, un guerriero e la persona più forte che abbia mai incontrato. A Ron ora è il ragazzo che sognavo che sarebbe stato, ha detto sua madre. A Ron ha quasi due anni, è un bambino sano, felice, forte e perfettamente normale. Anna visita i reparti di terapia intensiva neonatale offrendo il suo sostegno e la sua solidarietà ad altre madri. Anna vuole portare un messaggio di speranza alle famiglie che stanno attraversando una situazione simile a quella che ha vissuto lei, affinché non perdano la fede. La aiuteremo condividendo la sua storia, o a storia. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni. Grazie a tutti.